Sì, non mi posso affrontare, che cosa del genere? Ah! Aiuto! Ricordatevi all'onda, questi mondo! Grazie a tutti. Hai dimostrato di essere all'altezza delle nostre aspettative. Il tuo destino è la grandezza. Grazie. Qui ho finito, Mistios. Me ne vado. La vita fuori dalle porte dell'arena non fa più per me. Devo voltare pagina. Dove andrai ora? Cosa farai? Devo vivere la vita nel modo migliore che conosco. Vedrai tua figlia? La mia piccola Anaia? Sì. Credo che la vedrò. Spero di rivederti, scuro. Perché ora vuoi abbandonare l'arena? È a causa tu, Mistios. Finalmente ti ho visto combattere. Da quanto tempo non vedevi un combattimento? Da molto tempo. Ma sono lieto di averlo fatto. Hai risvegliato dei sentimenti che credevo non avrei mai più provato. Capisco. Amico. Amico? Non vecchio? Non vecchio. Amico. Ah, prima di andarmene ho organizzato un ultimo combattimento per te. Contro il miglior guerriero di tutto il mondo greco. Non sarà facile. Ma niente lo è mai nell'arena. Ti interessa? Magari un'altra volta. Come vuoi. Se vorrai combattere ancora quando me ne sarò andato, parla con Prasside alla porta. D'ora in poi si occuperà lui di queste cose. Fuoro!